queste opere in qualche modo sempre rifacendomi a tutta una serie di tabù ormai infranti da un secolo, dalle avanguardie artistico-letterarie. Per me, come dire, se io penso a quello che ha il fatto che ne so Balla, Tristan Zahara o Luchamp, anche a volte diciamo cose che si... No, l'arte povera già dopo, insomma, sto parlando degli anni dieci, o anche il surrealismo, al massimo il primo surrealismo, insomma, le cose che fanno...